Un saluto da Tg della Mobilità, sono in corso lavori di manutenzione dei binari tramviari su via Carlo Felice e via Emanuele Filiberto. Su via Carlo Felice sono chiuse sia la corsia tramviaria che la corsia laterale in direzione San Giovanni tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto. Su via Emanuele Filiberto invece è chiuso il tratto nel verso da via Carlo Felice a via Umberto Biancamano. Le linee bus 3NAV 51, 360, 590, MA, MA15, NMA, N3D sono deviate. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.